Sicurezza di mura e torri comasche e ancora riqualificazione di Villa Olmo. La prossima settimana potrebbero arrivare gli attesi esiti delle perizie. Nelle scorse settimane la ditta incaricata dal Comune aveva effettuato i rilievi tecnici per verificare lo stato di portatorre dopo che lo scorso anno un sasso sia staccato dall'interno della fortificazione muraria, fortunatamente non ferendo nessuno. La torre, come anche il resto delle fortificazioni, ad oggi è transennata. I controlli sono stati effettuati con rilievi laser del manufatto e delle fessure per accertare lo stato di degrado della torre. Si sono concluse inoltre le verifiche nella storica dimora di Villa Olmo. Anche in questo caso si tratta di analisi per verificare lo stato attuale della struttura, interventi necessari per avviare i lavori di riqualificazione. Il Comune di Como ha infatti ricevuto i finanziamenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La parte più cospicua delle risorse, quasi 9 milioni di euro, riguarda la riqualificazione delle strutture di Villa Olmo. Il lavoro ha dunque previsto l'analisi della parte muratura, lo stato del tetto e infine quello del solaio della villa. In ogni caso, fanno sapere da Palazzo Cernezzi, occorrerà attendere la prossima settimana per conoscere l'esito delle perizie e di conseguenza la progettualità che ne seguirà. Grazie a tutti.